Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Angela, ho 29 anni e a novembre 2021 mi sono trasferita dall'Italia a Dublino. Allora, intanto mi scuso per questo mese di assenza, ma come al solito sono incasinata, poi sono successe delle cose, insomma sono ancora un po' sconvolta, così comunque mi sto riprendendo e ho deciso di fare questo video perché insomma sono stata assente per un po' e volevo rimettermi su YouTube perché è una cosa che mi piace, mi appassiona, mi appaga e insomma vedo che qualcuno è interessato a guardare i miei video e quindi eccomi qua. Allora, anche oggi video chiacchiere perché non ho tempo di andare a fare i giretti e in più ultimamente secondo me sto sperimentando il vero tempo irlandese, cioè proprio pioggia tutti i giorni, umidità, insomma tempo un po' così da stare a letto e guardare Netflix e quindi vabbè, vi cucate lo sfondo di camera mia. Tra l'altro il letto è vuoto, non perché dormo sul materasso così come i matti, ma perché sto facendo la lavatrice. Allora, come dicevo, video chiacchiereccio e pensavo di insomma così fare due parole e dirvi quali sono quelle cose che quando sono arrivata in Irlanda non mi aspettavo che avrei, come dire, riscontrato e che invece con le quali bisogna fare i conti quotidianamente. Allora, la prima cosa che mi ha stupito sono, purtroppo, qua è nota dolente, sono i trasporti. Adesso io, come immagino molti di voi, ho girato un po' l'Europa e ho visto capitali europee, città grandi europee e, preciso, io vivo a Dublino, quindi la capitale. Insomma, quando sono venuta qua mi aspettavo di trovare un sistema di trasporti all'altezza di una capitale. Non è così, non è così. Secondo me a Dublino c'è ancora tanto lavoro da fare. La città non ha una metropolitana, si parla da tempo di fare sto Metrolink, ma a quanto pare sto progetto qua o è un naufragato, comunque se ne riparlerà tra un decennio. E ci si muove soprattutto con l'autobus, oppure c'è anche due linee tramviarie e una linea di qualcosa che definirei simile a, non so se siete stati a Berlino, la S-Bahn, quindi una specie di metropolitana superficiale, che però, vi posso garantire, copre solo alcune zone e non ha una frequenza così alta come potrebbe essere una metropolitana. E quindi di fatto la maggior parte della gente si muove con l'autobus. Il problema è che, allora, vabbè, gli autobus sono molto belli, molto moderni, sono abbastanza puntuali. Fortunati, logisticamente, ci potete mettere da 40 minuti a un'ora e mezza a fine. Quindi, ecco, secondo me dal lato trasporti c'è ancora tanto margine di miglioramento. Poi, sempre in termini di trasporti, uscendo da Dublino, una cosa molto interessante che mi è stata fatta notare da parecchi irlandesi è il fatto che una volta l'Irlanda aveva una rete ferroviaria parecchio capillare, stiamo parlando dell'epoca del dominio inglese. Dopo l'indipendenza, quindi da 100 anni a questa parte, nel corso degli anni il governo ha mano a mano smantellato molta della rete ferroviaria e ad oggi la rete ferroviaria è circa un terzo di quella che era 100 anni fa. Magari vi metto le foto per farvi capire. Allora, questa cosa non è che mi scateni così di primo occhitto delle reazioni positive, però posso anche capire che stiamo parlando di un paese di 5 milioni di abitanti dove la maggior parte della gente vive a Dublino o nell'intorno di Dublino o in poche altre città per cui ci sta anche che questo paese non abbia una rete ferroviaria paragonabile a quella che abbiamo noi in Italia anche perché l'Italia è un paese molto densamente popolato, più o meno ovunque andate c'è sempre un centro abitato più o meno popoloso qua, se girate in macchina in Irlanda e ve ne rendete conto, ci sono delle aree in cui veramente c'è il nulla più assoluto. Allora, un'altra cosa che io non ci avevo pensato, che non mi aspettavo, è il fatto che non c'è Amazon. Cioè, se voi dovete comprare da Amazon, dovete comprare o da Amazon UK oppure da altri Amazon localizzati nel resto di Europa e quindi pagare le spese di spedizione. Se non volete pagare le spese di spedizione, allora potete farvi Prime con Amazon UK però comunque, a meno che le cose che comprate non siano per qualche motivo in un magazzino qua dovete aspettare quei 3, 4, 5 giorni perché vi arrivino. E quindi, insomma, se siete abituati in Italia a ordinare una roba e vi arriva il giorno dopo eh, no. Cioè, questa cosa qua ve la dovete dimenticare, non succederà neanche nel... se siete fortunatissimi non... cioè, non vi arriverà mai la roba il giorno dopo. E quindi, ecco, questa è una comodità che uno è abituato ad avere in Italia e che qua non c'è. Poi un'altra cosa che, o magari sono sfortunata io, io penso che la connessione mobile faccia abbastanza schifo. Cioè, io credo che i dati del cellulare funzionino meglio in Italia. E mi sa che ho anche guardato, però, a postare, se lo trovo, la classifica dei paesi europei in termini di velocità, di download, l'Italia è sopra l'Irlanda di un bel po' di posizioni e quindi non me lo sto inventando. E niente, io ho Air, che praticamente sarebbe come la telecom irlandese e fa pietà. Cioè, a Dublino ancora si salva. Quando vado fuori da Dublino, veramente ci sono delle zone in cui non prendo assolutamente e dicono che Vodafone funziona abbastanza bene. Non so se mi andrà mai di provarlo, anche perché poi, tra l'altro, non è che costa poco. Cioè, io comunque, per avere questa connessione del cavolo che ho, il mio piano talifario, cioè, mi costa 20 euro al mese. E che in Italia, con 20 euro al mese, tra un po' vi comprate la linea fissa. Ultima cosa, e vabbè, questa qua non è neanche tanto una sorpresa, perché era una cosa che avevo già notato in altri paesi europei. Più si va a nord, secondo me, più questa cosa è un po' così, lo standard. È il fatto che i negozi chiudono presto. Mettete che le grandi catene, tipo Primark, così, se andate in centro, li trovate aperti anche fino alle 8. Però, generalmente, i negozi alle 5 e mezza, massimo 6, chiudono. Addirittura, anche i centri commerciali, e questa cosa a me ha stupito, perché in Italia funziona il contrario. Il centro commerciale che c'è qua vicino, dove abito io, durante la settimana chiude alle 7, però durante il weekend chiude... scusate, durante la settimana chiude alle 8, se non sbaglio, e durante il weekend chiude alle 7, che penso in Italia non si è mai visto un centro commerciale in una capitale che chiude alle 7. Insomma, questo video era così una chiacchiera con voi, giusto per raccontarvi il mio punto di vista, e per avvertirvi che, insomma, c'è un po' il mito dell'Irlanda, e io, tra parentesi, sono contentissima di essere in Irlanda, mi trovo bene, penso che ci rimarrò ancora per un bel po', però, ecco, stiamo parlando di un paese piccolo, un decimo dell'Italia, e stiamo parlando di un paese che è cresciuto molto recentemente, che fino a 30 anni fa si basava soprattutto sull'allevamento, e quindi certe comodità di un paese che è sempre stato più o meno industrializzato, e che ha una alta densità di popolazione, non le avete, o le avete molto più ridimensionate. Ecco, quindi, spero che questo video vi sia piaciuto, e spero di tornare presto con un altro video, e vi auguro un buon inizio settimana. Ciao!